Diamo la telecamera, siamo on the line, buongiorno, Tremosine sul Garda, l'indelicato Ivan, Ciccio Paolo, Cefo, detto anche Piro Cefo Ivan, descrizione veloce, giro di oggi, se ce la facciamo, sempre a me la descrizione, è fatta figa, o sei il narratore di turno Sei quello che ci ha dato l'input oggi, anzi stavolta niente descrizione, il posto è talmente bello che lo vedrete dove andiamo, bello bello Paolo si inizia a farlo stupido, ti schianterai prima o poi, se vi ricordate questa strada l'avevamo fatta in discesa dal Tremalzo e stavolta invece la facciamo in salita, avevi un'altra immagine? Prendo il piccanello, la pera in mano, noi con le mani dietro, io e te Paolo, mangiamo la pera Come gli innamorati? Se volete vi filmo anche Non so cosa succederà alla fine Non so Pausa? Pausa banana, dai Pausa banana Questa curva qua Ivan Questa la chiamiamo Curva Cefo Ivan, ti ricordi cos'è successo con la curva qua quando siamo andati a Tremalzo? No, non so, è una brutta cosa È una brutta cosa? È dura, è dura da mandare giù E Valentino Rossi e si butta all'interno È stata una brutta cosa Quel sorpasso è azzardato È successo qualcosa di brutto Paolo Schepiscia, anche lì è qualcosa di brutto e Paolo Schepiscia è brutto Puoi anche tagliarla E bei colori, poi se gli picchia il sole nella direzione giusta I cavalli Cazzo sono venuti su No, no, acceso, acceso Che bello che sei Sei grande Ciao Ma quanto siete bellissimi? Se non hai il cibo Se non hai il cibo non mi interessa che mi teo tu Guarda Vai cercargli le coccole Mi ti confide Abbiamo anche l'esperienza di cavalli che vogliono le coccole Gnari Siamo a mille e tre E c'è già la neve Non va giù, è È ghiacciata, è grippa Dici che è grippa? Sì, è grippa, grippa Guarda, che candelotti Mi prende i candelotti Ti voleva una fila, Fanti Ti voleva una fila E vabbè, figa, appena perché c'è perché Ho giocato a burlezzo Iniziamo Le difficoltà nevistiche Il problema è che siano solo a 1.500 Che è un pezzettino di l'agola Ivan, come facciamo a farla diventare merda? Shift Togli Ha un freddo cane Dai, Paolo Pingi Vai, 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 vai La strada innevata Che salita, ragazzi Si è C'è Che resta qua Ma il tremalzo, tremalzo Quello è il tremalzo, forse? Oh Cristo Meno male che c'è un po' di traccia Se no non andavamo più avanti E' un'avventura Sì, non un trail Questa qua è un po' la Come si chiama? A bike adventure A bike adventure Wow Bello Cosa è questo? Bocca di Campei Altavio numero 10 Garda Brenta Grande Vai Paolo Grande Bocca di Campei Che non è la nostra tappa La prima La prima Hai visto? Cosa? No, sei partito senza qualcosa No, perché? Ottima clip da mettere sul video Ah che bello il sole Che bello Che strada Bello Galleria Come facciamo a riuscire di frutto? Ah certo Perché siamo dall'altra parte noi Il lago è qua sotto Però guarda Qui è lato di Montebaldo Questo Che bello Ricorda tanto il 3 marzo Però Come alla fine Anche qua sopra E sono sopra la pietra E Paolo In un posto così Cos'è che non può mancare? Signori Ladronata Hehehe Che bello Che bello Irre Che bello Grazie a tutti. 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 Oh la la. Bello. 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 Orca di che. Bello. 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 Mamma. Si sono passato. Porca miseria. Questo è impestato forte. Non so dove andare. Non so dove andare. Ho visto. La bicicletta di Franci è lì. Lui è là. Tutto a posto. L'erba mi ha fregato. Sono le gomitiere che portano sfiga. Tutte le volte che non le metto volo in terra. Adesso che le metto vedrai che non cado più. hai visto volare per terra a me le metti. Non pensavo che era così diretto subito. Discesa maledetta parte 2. A parte la tua caduta. Eh vabbè ci sta. Basta non farsi male. Stavolta non mi ha fregato. Ti ho visto. Stavolta non mi ha fregato. Mi ha lanciato prima la bicicletta. Io faccio io aspettatemi. Occhio. Bello cazzo. Ah. Ah. F*** ma è contro. Ah beh basta è andato. Si ma. Eh ha capito. Ma il primo dietro è importante. Vuoi che proviamo ad aprirlo un attimo? Eh. Posso aprire. Beh vedere le pastiglie o qualcosa. Se arrivano le cose. Cazzo è andato proprio figa. Ma non deve capitare una cosa del genere. No più che altro c'era un'alternativa a scendere. Per te. Allora siamo arrivati Anna. Eh beh beh ma pian pianino. Eh. Tanto siamo qua al massimo. Se muori ti garantiamo una degna sepoltura. Sei contento. Eh eh eh. Terno è un passo dalla Puria. Andiamo. Passo dalla Puria. Sentiero 25. 29 ore 2. Sì eh. Vuoi stare davanti Ivan? No 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 ma adesso devo andare pianino perché. Sì? Eh. Vabbè io vado pian pianino. Tanto cazzo quelle rocce di merda qua. E le foglie non si vede. Non si vede il pericolo. Non si vede il pericolo. Sì. Non si vede il pericolo. Qu' которà tutto ciò che entrava. Intento sempre salita da solito- è terrificante qua Ivan fai la piedi va tutto ok Ivan? le mani si fa malissimo ah minchia proprio così no ti ho posto? alla grande alla grande il canastro! Ivan! alla grande! ma hai visto dove dobbiamo passare? guarda lì ma il sentiero della morte è questo qua ma figa bello è bello lui se non fosse per il leggero baratro che c'è qui sotto che se sbagli a mettere la ruota ti uccidi però Ivan fa la piedi va non fidarti lì Ivan c'è da fargli una statua solo perché è venuto giù senza freni veramente è in piedi è in piedi forte figa chiamo Ivan? si 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 aspettiamo lui facciamo frenando anche freghi di escursione a eh a quella davanti non hai più ammortizzatore non hai più in sospensione poi c'è delle botte impressionanti eh eh ti credo qui là no figa ho visto come derappa Paolo? ha finta va bene così ci siamo divertiti abbiamo fatto una bella discesa Ivan è vivo Ivan è vivo quindi per oggi va bene per fare un video acchiappa like dicendo oggi è successo di tutto è vero cazzo allora mettiamo il volo che ho fatto io il mini volo che ha fatto lui qua qua ma anche lassù si un po di volte cazzo di dirmelo che ti riprendevo figa oggi eroe del giorno senza freno siamo tornati all'incrocio San Michele ragazzi è stato un piacere grazie Ivan grazie Paolo grazie a te alla prossima ciao a tutti